Salve a tutti, sono Federico Dolci del team Six Engineers e questo è il mio giro di qualifica ci accingiamo quindi alla curva 1, arriviamo di quinta marcia, freniamo circa 100 metri e scaliamo due marce, bisogna stare bene cuciti al cordolo interno e poi tagliare leggermente sul secondo andando belli larghi sul cordolo in uscita, mettendo la quarta, si tira la quarta, si inserisce la quinta e si scalano due marce circa 50 metri, si effettua il tornantino vicini al cordolo e si esce dando tutto gas stando attenti naturalmente al sottosterzo, quarta, quinta marcia e si arriva circa 60 metri e si scalano altre due marce qui purtroppo un inconveniente con una macchina lenta, si affronta la chicane lenta di terza marcia definita anche prima S, poi arriviamo alla seconda S, curva veloce, si pela leggermente il gas e si passa su entrambi i cordoli andando larghi di terza, quarta marcia, arriviamo alla quinta marcia, ne scaliamo due alla curva X stiamo belli dentro, prendiamo la corda e usciamo sul verde mettendo la quarta e poi di nuovo terza marcia per il ferro di cavallo, teniamo tanta percorrenza a stringere l'ultima curva per poi andare verso il tornantino che alla fine sono due curve in una e poi l'ultima chicane veloce che porta quindi sul rettilineo e si arriva di quinta marcia, un saluto a tutti